Sì, sì, ok, grazie, ok, a domani, grazie, ciao, ciao Lucio, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, questo so qui fuori lo studio, adesso iniziamo la giornata, il misto della canzone che si chiama, come si chiama la canzone che facciamo oggi, Lucio? Glass Ceiling. Oh, Glass Ceiling, sì, oggi iniziamo il misto, la canzone che si chiama Glass Ceiling, qui il studio si chiama Round 35, Round 35, adesso vado a lavorare a finire questo CD, grazie tantissimo ragazzi, ciao ciao, ciao ciao, andiamo Lucio, grazie. Grazie a tutti.